Consapevole del particolare contesto di questi mesi, di queste settimane, ritengo opportuno fare, a beneficio di codesta Commissione, un breve focus sul SAR nel quadro dei flussi migratori, attività che ben poco ha di ordinario e che vede le strutture organizzative, i mezzi e gli uomini e donne della Guardia Costiera massivamente coinvolti ogni giorno e senza sosta da circa 13 anni, indipendentemente dalla maggiore o minore attenzione mediatica riservata a queste specifiche attività. Mi riferisco alla gestione del fenomeno migratorio proveniente dalla sponda sud del Mediterraneo, che è fortemente influenzato nelle sue dinamiche da eventi geopolitici, sia strutturali, sviluppo demografico, deficit economici tra aree geografiche, fattori climatici che contingenti, catastrofi naturali, conflitti tra Stati, crisi politico-istituzionali. Mi preme a riguardo evidenziare un concetto forse banale, ma che ritengo essenziale, il soccorso svolto da un'organizzazione dello Stato professionale e strutturale come la nostra è un'attività che, seppure di emergenza, richiede disciplina e organizzazione, non estemporaneità o improvvisazione. Per questo la Guardia Costiera ha sempre operato ed opera, e non potrebbe essere altrimenti, su una base giuridica certa e stabile offerta dalle convenzioni internazionali di settore, dalle norme europee e nazionali, dalle procedure e dai manuali operativi anch'essi approvati e rese esecutive con norme regolamentari. Tutte norme su cui rispetto ed attuazione interviene una responsabilità penale, diretta e personale dei nostri operatori, siano essi in mare o nelle nostre centrali operative. Altro non c'è. Non vi sono ordini, disposizioni o suggerimenti che da qualunque parte vengono possono in qualche modo derogare da questo modello. Il coinvolgimento della Guardia Costiera nelle operazioni di soccorso ai migranti vanno ricercate essenzialmente negli articoli 69 e 70 del Codice della Navigazione e negli obblighi che l'Italia ha assunto con l'adesione alla Convenzione di Hamburgo del 1979, ratificata con la legge 3 aprile 1989 numero 147. La norma di recepimento della Convenzione di Hamburgo affida al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la responsabilità politica per l'esecuzione della Convenzione. Questi, a sua volta, delega il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, in ragione di quel vincolo organizzativo e funzionale che in premesso ho più diffusamente illustrato, al coordinamento tecnico del dispositivo SAR italiano sulla base delle procedure del Piano SAR, aggiornato nel 2021. Tale dispositivo si articola nell'organizzazione territoriale del Corpo delle Capitanerie di Porto e nei relativi assetti aeronavali sopravvisti a costituire la cosiddetta Maglia SAR, ovvero il criterio organizzativo di uomini e mezzi a copertura dello spazio di mare rientrante nell'intera area di responsabilità SAR italiana, la cui estensione misura, come detto, circa 500.000 km2. Entro questi confini spaziali e funzionali opera la Guardia Costiera nell'esercizio dei propri compiti e, di conseguenza, nell'assolvimento delle connesse responsabilità. Ma l'assenso o l'inadeguatezza di una stabile organizzazione SAR dei Paesi frontisti, in grado di intervenire in quella che dovrebbe essere, qualora dichiarata e esercitata, la propria area di responsabilità SAR, fa sì che, in ossequio a quel sistema di regole della Convenzione di Hamburgo a cui facevo cenno in premessa, quando l'organizzazione SAR italiana venga a conoscenza di una situazione di pericolo per la vita dei migranti in mare, anche se l'unità si trova ben al di fuori delle acque di responsabilità SAR italiane, sussiste comunque l'obbligo di intraprendere le azioni necessarie e continuare a coordinare i soccorsi. In altre parole, ciò che per le regole di Hamburgo dovrebbe rappresentare un'eccezione, una regola di chiusura del sistema, ossia l'intervento medio-tempo di chi apprende la notizia nell'emore che intervenga l'organizzazione che ne ha la responsabilità diretta, nello scenario del fenomeno migratorio che vede la Libia, la Tunisia, l'Egitto e la Turchia come principale area geografica di partenza delle imbarcazioni dei migranti, è divenuta di fatto prassi frequente. Tale scenario, secondo le regole internazionali vigenti, determina l'insorge e il perdurare della specifica situazione di obbligo che vincola l'organizzazione SAR italiana ad intervenire. Le nostre unità e i nostri equipaggi sono sempre più frequentemente chiamati ad operare a distanze elevatissime dalle coste italiane, intervenendo su un'unità spesso sovraccariche e prive di equipaggio e delle più basilari dotazioni di sicurezza. Per darvi solo un dato che ritengo significativo, il numero dei migranti soccorsi da assistiti in mare dal 1991 al 2022 è di 1.182.000. Come ho accennato, parlando dei nostri mezzi navali, tutto questo sta determinando un prematuro ed inevitabile logorio e deterioramento dello strumento aeronavale, che incide in maniera determinante sulla sua vita operativa e per il quale abbiamo più volte evidenziato la necessità di urgenti interventi di adeguamento.